Le nuove acquisizioni sul microbiota ci permettono di intravedere quale possa essere la dieta ottimale per la salute. Oggi la dieta è considerata praticamente utile solo per dimagrire e anche per questa azione molto spesso sappiamo che fallisce. Siamo ben distanti dalla visione della dieta che aveva Ippocrate, che aveva già intuito nel 400 a.C. l'esistenza del microbiota come di forze indogene capaci di riequilibrare le disarmonie che portano alle patologie. Eppure l'effetto placebo conferma proprio l'esistenza di queste forze indogene. E l'effetto placebo dà molto fastidio perché mette in dubbio l'efficacia dei farmaci, però è molto importante esaminarlo. Se il cibo è la più potente medicina che ci sia, i frequenti fallimenti della dieta anche solo per dimagrire ci fanno capire che le basi su cui poggia non sono molto solide. Soprattutto non si basano su evidenze che ci mostrano come la parte più importante del nostro corpo sia quella microbica. Ma non solo come il nostro corpo cellulare non sia altro che uno spazio abitativo, un contenitore del microbiota. E' importante mettersi a guardare dalla parte del microbiota. Noi siamo appena comparsi sulla Terra, mentre i batteri sono qua da circa 3,5 miliardi di anni. Hanno subito ben due rischi di estinzione, il secondo causato dall'avere scelto una vita simbiotica con esseri capaci a produrre la fotosintesi, cioè hanno inquinato l'atmosfera di ossigeno. Questi li hanno portati a cercare o di adattarsi a vivere in atmosfera con ossigeno o rifugiarsi nei posti anaerobici ancora presenti qua sulla Terra e altri invece hanno pensato di inventarsi dei rifugi come sistemi digerenti di altri corpi. L'apparato digerente, quindi il compito di proteggere il microbiota, è un suo rifugio. Per poterlo proteggere le sue cellule devono essere nutrite. Queste cellule si nutrono esclusivamente di acidi grassi a corta catena che possono essere ricavate in maniera diversa e con sistemi digerenti diversi a seconda delle preferenze alimentari dell'animale. Il ruolo protettivo è confermato dalla presenza di recettori del gusto su tutto il sistema digerente che riconoscono il cibo in base al gusto e danno risposte anticipatorie per gestirlo. Il processo evolutivo poi ha segnato dei profondi cambiamenti, ha modificato enormemente il nostro apparato digerente orientandolo a ricavare questi preziosi nutrienti, cioè gli acidi grassi a corta catena, dai grassi saturi, non più tanto dalle fibre indigeribili. Imparare a fornire elevatissime risposte infiammatorie a cibi molto difficili, inimmaginabili dal sistema digerente iniziale, ha fatto scattare nell'uomo l'ansia della conoscenza, la vera differenza tra noi e gli altri animali. Questo è il ruolo che ha avuto il cibo nel trasformarci da hominidi a homo sapiens. La dieta ottimale, pertanto, della salute e della longevità è quella che ci permette di mantenere elevata la forza del micropiota, cioè la biodiversità dei suoi ceppi batterici, e questo si può tenere solo, da una parte mantenendo nutrite le cellule dell'apparato digerente in modo che possono dare congrue risposte alle stimolazioni richieste da recettori del gusto, e dall'altra parte confrontandolo con cibo o anche difficile, in quanto è uno stimolo a mantenersi forte come fosse una massa muscolare. Buona lettura!